Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 11 luglio. Entro 48 ore il Milan manderà l'offerta al Bruges. La seconda offerta, la prima era intorno ai 20 milioni, ora ne manderà un'altra intorno ai 30 milioni. Potrebbe essere addirittura l'offerta finale. Il Milan non ha più intenzione di attendere, il giocatore Charles de Queteler vuole il Milan, il Leeds si è reso conto e sta già, secondo informazioni che arrivano ieri sera dall'Inghilterra, sta già cercando alternative. Mi sembra che vada su Camengo del Paris Saint-Germain. Quindi il Milan a via libera manderà la sua offerta, il giocatore sembra che abbia già chiaro quello che vorrebbe offrire il Milan, circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo, e poi il Milan attende la risposta del Bruges. Ma ecco sul Corriere dello Sport ancora ulteriori dettagli riguardo a questo punto. Riguardo entro il 48 ore l'offerta era abbastanza presumibile, presumibile, ma ripeto sul Corriere dello Sport c'è anche una deadline. Entro dieci giorni il Milan vuole una risposta per poter effettuare, per poter organizzare le visite mediche del giocatore, che sia pronto poi a partire per la mini-tournée che vede il Milan impegnato contro una squadra ungherese. Poi ci saranno i quattro giorni dal 23 al 27 a Villach in Austria, dietro il Tarvisio, appena passato il Tarvisio. Poi la seconda amichevole contro il Wolfsberger e poi il ritorno a è la partenza per Marsiglia, Marsiglia contro il Marsiglia, il 31 luglio alle ore 18. Entro dieci giorni il Milan vuole la risposta da De Keteler o meglio dal Bruges. Da entrambi tutti d'accordo, allora si parte. Il Milan non aspetta altro, non aspetta oltre scusate, non aspetta altro tempo e non aspetta oltre per poi andare eventualmente, nel caso che ci fossero ulteriori, speriamo di no, esitazioni da parte del club belga, non credo da parte del giocatore, poi eventualmente andrà, perché il Milan le ha, diciamo a incamminarsi verso la strada B o la strada C. La strada B è Ziyech, ma Ziyech è la prima alternativa nel caso non arrivasse De Keteler, altrimenti Ziyech non verrà. Il Milan giustamente si è cautelato con Ziyech, ma c'è anche una soluzione C, una strada C, una terza strada, che è quella di Marco Asensio. Quindi questa è, diciamo, la strategia del Milan, le idee del Milan per quello che riguarda il trequartista. Chiaro che Asensio non è il trequartista, ma avrebbe comunque una terza opzione rafforzando magari la fascia destra e poi cercando alternative o soluzioni magari con lo stesso Renato Sanchez. Ma il primo obiettivo, l'obiettivo primario, rimane Charles De Keteler. Dieci giorni, diteci qualcosa, dirà il Milan al Bruges, l'offerta è vicina, il Milan non vuole aspettare altro tempo. Il campionato inizia fra circa un mese, il Milan ha bisogno di rafforzare la squadra, partire da De Keteler e poi vedere, ma senza grande fretta, il discorso del centrocampista. Vi do la scaletta del Milan. La scaletta del Milan prevede innanzitutto De Keteler, ripeto, seguendo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, entro dieci giorni sì o no. Visite mediche e partenza per Villa, altrimenti si andranno a cercare altre soluzioni. La scaletta è il trequartista De Keteler e Zieg alternativa per un altro ruolo però, Asensio, ma i due non verranno se arriverà De Keteler. Quindi togliete Asensio, togliete Zieg se arriverà De Keteler. Fidate. Poi la scaletta prevede altri due rinforzi e poi la chiudiamo lì come rinforzi in questo momento. Poi ci sono le opportunità, ma la priorità era De Keteler, poi si vedrà per il centrocampista. Per il centrocampista la soluzione che il Milan auspica è quella di Renato Sanchez. Ha già mandato l'offerta, il Paris Saint Germain non ha ancora mandato un'offerta. Ha dieci giocatori da cedere, tra questi Paredes, tra questi Wijnaldum, perché è arrivato anche Vitigna dal Porto. Quindi ha dieci giocatori. Il pensiero del Paris Saint Germain oggi non è acquistare, ma è vendere. Il Milan attende, attende che cosa abbia intenzione di fare Mendes, l'agente di Renato Sanchez. Che cosa abbia intenzione di fare Renato Sanchez? Perché se Renato Sanchez si comportasse come Charles de Keteler, chiaro che spingendo un po' verso il suo agente la strada verso il Milan sarebbe appianata. Ma se lo stesso Renato Sanchez ha delle titubanze, vuole capire le mosse del Paris Saint Germain, ha dei problemi di ingaggio, vorrebbe i suoi 6 milioni e dai 6 milioni non scende, il Milan troverà altre soluzioni. Un Milan che per quello che riguarda il centrocampo, ripeto, non ha in questo momento una grandissima fretta. Ha dei giocatori da vedere, da capire Pobega come si inserirà, per vedere Adli che oggi poi verrà presentato come si inserirà, a Tonali che due giorni prima della data fissata sarà già a Milanello a voglia di pallone, a voglia di Milan. Benasser, un altro giocatore sul quale il nostro allenatore Pioli punta, punta molto, è il sempre affidabilissimo Krunic, quindi centrocampo da studiare da parte di Pioli, da studiare bene per capire il valore dei giocatori inseriti nella sua organizzazione di gioco, dopo eventualmente rimane sempre la meravigliosa opzione di Renato Sanchez. Però anche Renato Sanchez deve comportarsi come Charles de Queteler, eventualmente insistere, perché se aspetta il Paris Saint-Germain, secondo me dovrà aspettare tanto, perché ripeto, il Paris Saint-Germain ha da liberarsi di tanti giocatori, è in una situazione sempre piuttosto complicata. È affascinante magari per Renato Sanchez, ma se il fascino continua il Milan lo molla e magari dopo aver visto i centrocampisti magari andrà a trovare altre soluzioni o addirittura sarà soddisfatto della soluzione attuale. Renato Sanchez però sarebbe veramente un giocatore che per caratura, esperienza, presenza, personalità, farebbe ulteriormente salire la qualità della rosa del Milan e la crescita del Milan. Poi, ultima tappa, il difensore centrale. Non credo a difensori centrali costosi, quando mi dicono di allò, o di allò ce l'ho mezzo regalano, allora magari, ma in questo momento credo che Milan non vada a cercare giocatori molto, molto alti di prezzo per quel ruolo. Troverà delle opportunità. Voi mi direte, ma questa annosa fascia a destra, ci sarà sempre Messias, visto che Asensio non viene, visto che Zia che non viene, nel caso arrivasse De Keteler? Il Milan partirà ancora per adesso da Messias e Selemekers. Poi vedranno le opportunità di mercato, se ci sono dei giocatori che possano avere differente attitudine tecnica, differente qualità, magari un giocatore più da profondità, da cross in fondo, però saranno giocatori che arriveranno nel corso del mercato. Primo il trequartista, poi eventualmente il centrocampista e il difensore. Il resto sono tutte eventuali opportunità. Per un Milan che a Castiglieco in uscita sembra che interessi a Gattuso al Valencia, a Daniel Maldini sembra che interessi al Verona, a Caldara sembra che interessi allo Spezia. Già cedere questi tre giocatori, chiaramente Maldini in prestito, Caldara in prestito, crediamo invece a titolo definitivo Castiglieco, già farebbe muovere il mercato. E poi c'è anche l'annosa questione dei rinnovi. Per adesso non ne parliamo perché è più importante intanto trovare dei rinforzi importanti, delle pedine importanti per il prossimo anno, ma tutto sommato non dobbiamo dimenticare che il rinnovo di Benassere, c'è anche quello di Tomori mi sembra, di Benassere di Leao soprattutto, sono due punti fermi per capire quanto sarà forte il Milan del futuro, quanta continuità nella grandezza possa avere. Perché Leao e Benassere sono due pedine fondamentali, sono due pedine di livello europeo, di livello internazionale e sarebbe importante che il Milan chiudesse queste trattative, anche se non sono trappelati, per adesso non è trappelata alcuna notizia circa incontri, circa contatti. Quando nell'occasione delle ultime trattative c'era Noglu, Donnarumma, che sì, qualcosa usciva e si capiva se la distanza fosse lunga, fosse breve, però per adesso non è ancora uscito assolutamente nulla. Chiudo ricordandovi innanzitutto la terza puntata del mio podcast 2012, le storie e gli aneddoti riguardanti quell'anno piuttosto ricco di colpi di scena, la mia maglietta, eccola là, e per il sorpasso la prossima volta che potete acquistare sul mio, schiacciando shop, sul mio profilo Instagram, ma soprattutto oggi, oggi, nel video, in uno dei due video che seguiranno questo, vi darò, l'ho pensato ieri, il soprannome di Divock Origi. Divock Origi è giocatore attaccante, l'attaccante importante, l'attaccante che purtroppo non vedremo per qualche tempo ancora, però ho trovato un bel tonico, un bel tonico e mi piace soprannome per Divock Origi, oggi lo comunicherò, mi piace darlo sul mio canale YouTube come prima uscita e lo metterò anche sul post di Instagram, mi auguro che vi piaccia, in attesa poi di studiarne un altro anche per Adli e per Pobega, che sono a trovare qualcosa di particolare per Charles de Quetelaire, che ci auguriamo entro dieci giorni possa essere un giocatore del Milan, ricordo il Corriere dello Sport che dice entro dieci giorni, dentro o fuori, e poi vediamo tutti gli altri giocatori, sono giocatori che danno stimoli nella scelta del soprannome. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegati e soprattutto attivate la campanella. Oggi appuntamento con Adli, col soprannome con Adli e poi capiremo, e poi capiremo anche se la gente ha visto qualcosa, cercheremo di scoprire la personalità di questo splendido centrocampista, ragazzo intelligente, suonatore di piano, suonatore di violino, ha imparato a suonare violino e piano, gioca a scacchi, è un ragazzo intelligente e quando un ragazzo intelligente è già una bella partenza.